Perché alla fine siamo tutti piloti, ma siamo tutti diversi tra di noi. C'erano piloti che magari soffrono un po' più la qualifica, chi soffre un po' più la gara. Io ho sempre sofferto un po' più la qualifica. In gara mi sono sempre un po' più liberato. Magari i momenti prima li ho sempre un po' accusati un po' di più. Ma tu? Diciamo che io accuso di più la gara, la partenza. Poi dopo, una volta che parto, devo dire che mi tranquillizzo. I tre minuti prima, immagino. I tre minuti prima. Quando parti... Quando mettono il cartello, tre minuti. Poi dopo quando fai il formation lap... Ti tranquillizzi un po'. E poi dopo quando ritorno in griglia... Ti scateni. Eh, dopo parto, sono un po' agitato, però dopo quando passa il primo giro mi ritranquillizzo. Mentre la qualifica devo dire che non l'ho mai sofferta.